Salve, professorissa, ma che è successo? E cosa può essere successo in questa Italia che finisce tutto allo scatapascio? Mi sono fermata un attimo a non leggere un film e mi hanno rubato la macchina. E qui intorno si avrà il covo delle tre scimmiette. Non vedo, non sento, non fa. Beh, l'accompagno io a fare la denuncia, col motorino è un attimo. No, prendo 60. Col 60, professore. Ma che è anche roba bestiame? L'accompagno io. Col motorino? Eh. E dove sarebbe questo mostro della strada? Lì. E ci mancava pure questa. I documenti non me ne frega niente, ci sono dubbificati. Sembra strano, ma mi dispiace per la macchina. E certo, perché in fondo la Sintamilla è sempre una singola macchina. Cazzo, cavolo. Quanto ci mette a fare una fotocopia? Già le otto. Suo marito sarà preoccupato. Mio marito? Mio marito se n'è andato un anno fa. Ah, mi dispiace tantissimo. Io non lo sapevo. Condoglianze. Mamma non mi ha detto niente a scuola, se no io sarei venuta. Ma è venuto a dove, Molinari? Mio marito è vivo. Se n'è andato con uno io, con una iuppi. Ah, meno male. Meno male che è vivo, no? Che è scappato con la iuppi. Una cosa, Molinari. Io ti consiglio, dopo la scuola, le pubbliche relazioni. Va bene, grazie. Si figuri. Buona serata. Dobbiamo fare i complimenti per la pedalata, ma non pensare che questo cambi qualcosa fra di noi. No. Ah, Molinari, visto che per te l'Ottocento è un buco nero, vieni da me lunedì pomeriggio, per un ripasso. E allora? Va bene, a che ora? Alle quattro, puntuale.